La denominazione Amplificatore operazionale deriva dalle sue prime applicazioni. Veniva utilizzato per eseguire diverse operazioni matematiche nei circuiti di calcolo analogici. Salta subito agli occhi la presenza di due ingressi invece del singolo ingresso. Di un normale Amplificatore, l'ingresso contrassegnato dal segno meno, viene denominato invertente. Quello contrassegnato dal segno più, viene denominato non invertente. In un generico Amplificatore, è presente un solo ingresso. Il segnale applicato, lo ritroviamo in uscita, ma con ampiezza maggiore. Il guadagno, che chiamiamo A, è il rapporto, tra ampiezza del segnale in uscita, e ampiezza del segnale in ingresso. Ne deriva che l'ampiezza del segnale di uscita, sarà uguale a quella del segnale di ingresso, moltiplicata per A. È normale chiedersi, perché sono presenti due ingressi, in un Amplificatore operazionale. Il motivo è semplice. Un Amplificatore operazionale, non amplifica un singolo segnale, ma la differenza, VD, tra due tensioni. Quella applicata all'ingresso non invertente, che abbiamo chiamato V1, e quella applicata all'ingresso invertente, che abbiamo chiamato V2. Quindi, possiamo considerare la tensione differenza, VD, come segnale di ingresso. Chiameremo VU, il segnale di uscita. Indicando sempre con A, il guadagno, l'ampiezza della tensione di uscita, sarà data teoricamente dal guadagno A, moltiplicato per l'ampiezza della tensione VD. Ed ecco, tre caratteristiche importanti degli amplificatori operazionali, da tenere sempre in considerazione. Guadagno A, elevato. Impedenza degli ingressi, elevata. Impedenza di uscita, bassa. Approfondiamo gli effetti, di ognuna di esse. Iniziamo, dal guadagno elevato. Ipotizziamo, che il guadagno di un amplificatore operazionale, presenti un valore pari a 100.000. Questo potrebbe far pensare, che applicando agli ingressi, due tensioni, che differiscono di un solo Volt, in uscita, otterremmo ben 100.000 Volt. Assolutamente no. Attenzione! La tensione di uscita, in un amplificatore operazionale, non può mai superare la tensione di alimentazione. In realtà, ci si dovrà fermare a valori leggermente inferiori. L'alimentazione, di un amplificatore operazionale, è solitamente duale, cioè presenta due valori uguali, ma di segno opposto. Li abbiamo indicati con più Vcc, e meno Vcc. In questo modo, in uscita, potremo ottenere tensioni, sia positive, che negative. Come esempio, utilizziamo due valori tipici, più 15 Volt, e meno 15 Volt. Per stabilire, che tensioni possiamo applicare in ingresso, dobbiamo partire dalla tensione massima di uscita, che sarà positiva o negativa, in base alla polarità dell'ingresso Vd. Poiché, dobbiamo fermarci sotto i 15 Volt dell'alimentazione, la tensione massima di uscita, la fissiamo pari a 14 Volt. Applicando, la formula del guadagno, quando in uscita sono presenti 14 Volt, la tensione differenza di ingresso, Vd, si ottiene dividendo 14 per il guadagno a 14 diviso 100.000, da come risultato una tensione piccolissima, 0,14 millivolt. Quindi, nel nostro esempio, in ingresso, la tensione Vd, a causa dell'elevato guadagno, non può superare il valore di 0,14 millivolt. In caso contrario l'amplificatore operazionale, andrebbe in saturazione, ovvero raggiunto il valore massimo di 14 Volt, non potrebbe aumentare ulteriormente. La tensione di uscita rimarrebbe bloccata. Dall'esempio deduciamo, che all'ingresso di un amplificatore operazionale, per evitare la saturazione, le tensioni V1 e V2, devono avere valori molto vicini. Precisiamo che, esistono amplificatori operazionali, con guadagno superiore, al valore 100.000, utilizzato nel nostro esempio. Il guadagno diminuisce all'aumentare della frequenza. Gli amplificatori operazionali, amplificano anche tensioni continue. Non ci sono problemi, se abbiamo una sola tensione da applicare in ingresso. L'amplificatore operazionale, si può utilizzare, come un amplificatore a singolo ingresso. Basta collegare a massa, uno dei due. Possiamo inviare, la tensione V1, all'ingresso non invertente, ottenendo una tensione di uscita V1, con lo stesso segno. Possiamo inviare, la tensione V1, all'ingresso invertente, ottenendo una tensione di uscita V1, con segno opposto. Analizziamo ora, l'impedenza degli ingressi, che risulta elevata. Basta poco, per spiegare cosa comporta, un'elevata impedenza degli ingressi. Quando applichiamo delle tensioni, sia all'ingresso non invertente, che a quello invertente, le correnti che interessano gli ingressi, possono essere considerate trascurabili. L'impedenza di ingresso, possiamo considerarla in linea di massima, dell'ordine dei Mega Ohm. Non rimane, che analizzare l'impedenza di uscita. Il valore, sicuramente basso, si attesta normalmente sotto i 100 Ohm. Questo permette, correnti di uscita, relativamente elevate. E ora, come esempio, un classico amplificatore operazionale. Il micro A741. Oggi esistono amplificatori operazionali, decisamente più evoluti, ma questo famoso circuito integrato, si presta bene per introdurre l'argomento, e per le prime esperienze pratiche. Accanto al simbolo, che già conosciamo, vediamo la schematizzazione del circuito integrato, a 8 pin. Come sempre, la numerazione dei pin, segue il senso anti-orario. L'ingresso non invertente, corrisponde al pin 3, mentre quello invertente, corrisponde al pin 2. L'uscita, è sul pin 6. La tensione più Vcc, dell'alimentazione, viene applicata al pin 7, quella meno Vcc, al pin 4. Abbiamo, quindi, due pin, il numero 1 e il numero 5, che riguardano l'offset, ovvero servono per compensare, tramite circuito esterno, inevitabili dissimmetrie, nello stadio differenziale di ingresso. Ma non è un argomento, oggetto di questo video. Infine, il pin 8, non è attivo. Questo amplificatore operazionale, possiede un guadagno, pari a 200.000, una impedenza di ingresso, pari a 2 mega ohm, e una impedenza di uscita, pari a 75 ohm. Terminiamo il video, mostrando l'amplificatore operazionale, micro A741, all'interno del laboratorio virtuale Tinkercad. Abbiamo già posizionato, il circuito integrato, sulla Brainboard. Quindi, predisponiamo l'alimentazione duale, più Vcc, e meno Vcc. Predisponiamo, anche l'applicazione di una tensione, all'ingresso non invertente, lasciando quello invertente, a zero. Infine, colleghiamo un voltmetro, per misurare la tensione in uscita. L'alimentazione duale, vede il livello delle tensioni, a 15 Volt. Applichiamo, all'ingresso non invertente, la più piccola tensione possibile, in questo laboratorio virtuale, 2 millivolt. Notiamo, che la tensione in uscita, a causa dell'elevato guadagno, ha già raggiunto il massimo valore ideale, cioè un valore pari alla tensione di alimentazione. 15 Volt. Siamo già in condizione di saturazione. Infatti, se proviamo ad aumentare, la tensione applicata all'ingresso non invertente, la tensione di uscita rimane bloccata al valore massimo di 15 Volt. Lo vediamo, ad esempio, con una tensione di ingresso, pari a 10 millivolt. Nulla cambia, con una tensione di ingresso, pari a 3 Volt. In alcune situazioni, viene proprio utilizzata, la condizione di saturazione. Ma se non vogliamo che si manifesti, dobbiamo abbassare il guadagno, con una tecnica chiamata, retroazione negativa.